Vedere nel momento in cui esce, cioè io sono tranquilla ora, finché in carcere, ma nel momento in cui lui dovesse uscire, esce più arrabbiato di prima. L'hanno fatta una valutazione psichiatrica, quanto meno psicologico forense, su questo soggetto? Ancora. Perché in alcuni altri stati, come gli stati udinti ad esempio, le valutazioni di questo tipo vengono fatte in maniera molto precoce all'inizio dell'inchiesta e sulla scorta di una valutazione di questo tipo si stabilisce il livello di pericolosità del soggetto, in base a questo si prendono poi una serie di contromisure via via sempre più grave. Ma lui dovesse uscire tra cinque anni, le faccio l'esempio. Lui ora è in misura cautelare o già condannato? Lui adesso, no, non è ancora condannato, lui adesso è in carcere. Però la questione esce tra cinque anni. Dice io sono rimasto in carcere per colpa della CONI. Secondo lei come esce? Secondo lei, io che reazione? Sa che io non ho avuto neanche l'avviso che era stato arrestato e cosa gli succedeva dopo, se non dalla scorta. E probabilmente ne avrà neppure l'avviso.